Esistono diversi modi per acquistare Bitcoin, in uno con diversi pro e contro Indipendentemente da ciò, un buon livello di sicurezza dovrebbe essere preso in considerazione a partir sin dalla fase d'acquisto In questo capitolo tratteremo le seguenti modalità d'acquisto dei Bitcoin ovvero di persona, over the counter, attraverso ATM Bitcoin dedicati, exchange online, exchange dei centralizzati oppure accettando Bitcoin come forma di pagamento Attenzione però, generalmente non esiste alcuna protezione del consumatore quando si effettuano transazioni con le criptovalute Polizie e tribunali hanno tuttora enorme difficoltà a valutare le diverse situazioni in maniera propria Ciò rende più facile ai truffatori farla franca e scappare con i tuoi Bitcoin Questo però non dovrebbe dissoderti dall'utilizzare Bitcoin, ma piuttosto incoraggiarti a prendere le dovute misure precauzionali Alcune di queste misure potranno pure sembrare estreme Ma il nostro obiettivo, anzi il mio obiettivo, è proprio quello di aiutarti a capire la diversità delle minacce che compaiono nel mondo Bitcoin Una cosa prima di iniziare a parlare di questi temi Ricorda che in Italia il limite di utilizzo dei contanti è previsto dall'articolo 49 della legge antiriciclaggio Ed è 2.999,99€ Quando effetto i scambi di Bitcoin di persona potrebbero essere coinvolte grandi quantità di denaro Quindi la tua sicurezza fisica ricorda che è sempre la cosa più importante È importante che tu rifletta su dove si andrà a incontrare fisicamente un altro soggetto per eseguire la transazione Un incontro durante il giorno in un luogo pubblico non troppo follato è l'ideale Questo luogo può essere una caffetteria, una biblioteca o un museo Ma a meno che il governo locale non abbia una forte posizione anti-Bitcoin La stanza di una stazione di polizia potrebbe per assurdo essere il posto meno probabile per una rapina Sì, ricorda che puoi sempre essere rapinato di una valuta virtuale Non appena qualcuno avrà conoscenza che hai accesso ai tuoi Bitcoin sul tuo telefono oppure sul tuo laptop Potresti ricevere minacce di violenza a meno che non trasferisci i tuoi Bitcoin sul conto del malvivente Se i tuoi avversari verranno a sapere dove costruisci il tuo seed, ovvero la frase di backup del tuo wallet Potrebbero decidere addirittura di concentrarsi su quello e trasferire Bitcoin sul proprio portafoglio in maniera quasi istantanea Gli attacchi offline non sono per niente rari e sono accaduti persino in Italia Puoi addirittura trovare su GitHub una lista di attacchi fisici conosciuti e resi pubblici avvenuti negli ultimi anni In stati dove il governo non ha una forte posizione anti-Bitcoin Effettuare incontri relativi a scambi di Bitcoin in una stanza riservata di una stazione di polizia potrebbe essere una grande idea Puoi essere abbastanza certo che qualcuno che intenda farti del male o rapinarti esiterebbe ad incontrarti in una stazione di polizia In un luogo del genere saresti in grado di contare liberamente i tuoi soldi e attendere la conferma delle transazioni Inoltre gli agenti di polizia sono spesso preoccupati per la tua sicurezza personale e quella della comunità Probabilmente apprezzerebbero che un'operazione rischiosa venga effettuata sotto i loro occhi Altri luoghi insoliti e sicuri includono le stanze degli uffici postali, le banche o gli edifici governativi In generale hai molta meno probabilità di diventare vittima di furte e rapine in un edificio ben illuminato Con agenti di sicurezza e un'unica e libera via d'entrata ed uscita Prima di effettuare l'incontro ricorda di preparare il tuo wallet Bitcoin Evita di perdere tempo di impostare il tutto sul posto Quando acquisti Bitcoin attendi sempre una conferma Almeno una conferma Per grandi quantità ti consiglio di aspettare da 2 a 6 conferme A tua discrezione Nella rete Bitcoin le transazioni possono essere trasmesse quasi istantaneamente Non appena una transazione viene prelevata ad altri computer nella rete Questi ultimi sono in grado di verificarne la validità o meno Queste transazioni non confermate non sono tuttavia finalizzate al 100% Come accade similmente durante il deposito di un assegno in banca Il denaro apparirebbe immediatamente nel tuo conto Ma richiederebbe più tempo per essere speso Nella blockchain di Bitcoin i miner raggruppano le transazioni in un blocco Che viene rilasciato nella rete all'incirca ogni 10 minuti Una volta che la transazione viene inclusa in un blocco Riceva una conferma Una volta che una transazione ha almeno una conferma È incredibilmente difficile da invertirne alla destinazione o cancellarla Per la maggior parte delle transazioni di ogni giorno Puoi considerare una conferma come prova della corretta registrazione della transazione stessa La probabilità che questa transazione venga invertita È così piccola che non vale nemmeno la pena di preoccuparsi In altri casi invece, per esempio, se stai vendendo milioni di dollari di oro A qualcuno di cui non ti fidi Una conferma non è sufficiente Potresti e dovresti Aspettare da 3 a 6 conferme Per essere assolutamente certo della registrazione della transazione nella blockchain Nemmeno qualcuno con un sacco pieno di soldi sarà in grado di invertire il pagamento Al momento della vendita di bitcoin Verificare l'integrità della valuta fiat che stai ricevendo potrebbe risultare estremamente difficile Sii pronto a testarne l'autenticità se il denaro contraffatto è cosa comune nella tua nazione In caso di dubbio, incontra il soggetto in una banca E chiede alla tua controparte di essere presente mentre depositi i contanti nel tuo conto bancario Infine, rimani attento e prendi mentalmente nota di ciò che ti circonda quando parti Cerca di essere il meno appariscente possibile E assicurati di non essere pedinato da qualcuno se non vuoi essere capinato Gli ATM bitcoin, erronamente chiamati bancomat Rappresentano un'opzione generalmente sicura e comoda per l'acquisto di bitcoin Se sei interessato ad utilizzare questa modalità d'acquisto Cerca di conoscere le tariffe delle ATM Le modalità di KYC e Anti-Money Laundering Appunto Know Your Customer e Anti-Money Laundering E di relativi documenti, se richiesti in anticipo Come ogni altro tipo di ATM, presta attenzione Stai attento alle persone che ti osservano troppo da vicino Gli exchange bitcoin offrono spesso le migliori tariffe Generalmente dello 0,3% Per comprare e vendere bitcoin Ma richiedono contemporaneamente informazioni personali E richiedono più tempo per effettuare gli ordini Quando ti registri su un exchange Assicurati che sia affidabile Controlla le recensioni della community Ed informati da amici o persone che conosci Anche i piccoli bug e incongruenze di un sito web Dovrebbero farti perdere fiducia Contrassegnandoli come inaffidabili o incompetenti Non lasciare mai, e ripeto, mai bitcoin o valuta fiat in un exchange Ritira sempre le tue criptovalute il più rapidamente possibile Ed inviali ad un wallet di cui controlli le chiavi private Ma cos'è il rischio di controparte? Quando depositi denaro in una banca Stai essenzialmente prestando i tuoi soldi Appunto alla banca stessa e come tali non sono più tuoi La banca diventa tua controparte in un contratto La banca potrebbe essere inadempiente per una lunga varietà di motivi E potrebbe diventare incapace di onorare il contratto Questo rischio è appunto il tuo rischio di controparte Solitamente vieni risarcito per questo rischio di controparte Attraverso l'interesse Molte giurisdizioni hanno una legislazione Che garantisce alcuni depositi presso le banche Ma tali disposizioni non esistono per le criptovalute Quando depositi bitcoin in un exchange Stai assumendo il rischio di controparte in varie forme L'exchange potrebbe essere violato O ordinato di essere chiuso dal governo Potrebbe addirittura diventare insolvente O semplicemente rendere le le tue criptovalute Non disponibili per un determinato periodo di tempo Gli attacchi hacker sono sempre più comuni E non sembrano rallentare Giusto per citare alcuni tra i più famosi Empty Gox persi circa 500.000 bitcoin nel 2011 E 850.000 nel 2014 Bitflor 24.000 nel 2012 Bitstamp 19.000 nel 2015 Bitfinex 120.000 nel 2016 Basta guardare la lista per capire la gravità della situazione degli exchange online E questi sono solamente alcuni esempi L'ultimo è Cryptopia che ha perso circa 13 milioni in Ether nel 2019 Appunto inizia le prime due settimane del 2019 Ogni volta che utilizzi servizi di terze parti Ad esempio processore di pagamento o exchange Rimani consapevole del rischio di controparte Puoi ridurre al minimo il rischio di controparte Per esempio vendendo bitcoin in piccole tranche O riducendo il tempo in cui mantieni i tuoi bitcoin Su un exchange al minimo assoluto Esistono diverse definizioni di exchange decentralizzato In questo caso un exchange decentralizzato è un qualsiasi exchange Sito web o piattaforma che non ha un proprio conto bancario Ma che può comunque mantenere una sorta di order book Il libro di ordini Gli scambi decentralizzati offrono solitamente una sorta di servizio di escrow Deposito a garanzia In cui i bitcoin vengono gestiti in maniera automatica È importante utilizzare sempre questo servizio di deposito a garanzia Per evitare di diventare vittima di una truffa I pagamenti in valuta fiat Vengono solitamente gestiti direttamente tra le due controparti coinvolte nel trading È importante quindi che familiarizzi con ciascuno metodo di pagamento che accetti O perlomeno capire quale sia il tuo rischio di essere defraudato Ad esempio alcuni bonifici bancari e maggiori sistemi di pagamento online come paypal Sono reversibili Ciò significa che anche dopo aver ricevuto un pagamento Questo può essere fatto tornare al mittente Dall'acquerente interessato ai bitcoin Non rilasciare mai i fondi dal deposito Ovvero l'escrow Fino a quando non sei certo di aver ricevuto ciò che ti spetta Molto probabilmente il modo più sicuro e conveniente per acquisire bitcoin È accettarli come compenso per i tuoi beni o servizi Nella blockchain di bitcoin Le transazioni sono raggruppate in blocchi A loro volta incatenati l'uno sull'altro Ogni blocco deve rispettare le regole del protocollo bitcoin E deve essere accettato dalla rete La rete è composta da individui e organizzazioni che eseguono il software bitcoin Se è presente un gran numero di utenti bitcoin intenzionato a cambiare le regole della rete Ad esempio consentendo la creazione e la messa in circolazione di più bitcoin Quest'ultima si dividerebbe ed avrebbe la cosiddetta fork o forchetta Quando il primo miner crea un blocco secondo le nuove regole Il blocco verrà accettato da alcuni partecipanti della rete Mentre verrà spinto da altri Alcuni miner aggiungeranno nuovi blocchi nella catena del fork A Mentre altri seguiranno la fork B In alcune circostanze entrambe le fork sopravvivono Come nel caso della fork tra bitcoin e bcash Tutti i salti presenti prima della divisione in due fork Saranno presenti su entrambe le nuove catene Mentre tutte le monete spostate o create dopo la suddivisione in due fork Esisteranno solo in una catena La storia di blockchain diverge Tutti i salti presenti come la storia di blockchain Grazie a tutti.